ciao a tutti ragazzi ed eccovi qui alla prova di sparo della mia nuova smg la vz61 scorpion della well vediamo un po ci ho messo un caricatore questo qui del modello della gingong la replica si può utilizzare in due modi uno così come una pistola oppure così come una metagliatrice ecco qua mettiamo il singolo funziona funziona non so se è questo caricatore o quell'altro vediamo il calcio hanno fatto un ottimo lavoro ragazzi ottimo lavoro adesso proviamo una bella grafica il problema è questo caricatore qua che è poco capiente e questo caricatore qua che è poco capiente però la capienza è quello che è quindi non ci possiamo pretendere di tanto va bene tal caso c'è anche il drum da 350 colpi però non possiamo pretendere di tanto mi sa che sono finiti devo ricaricare altri proiettili devo caricare altri colpi questa propria di si è proprio questo caricatore che gioco a pochi pallini raga 80 pallini però il vantaggio è un maggiorato quindi la capienza è quella che è la capienza è quella che è quindi questa come possiamo non posso come possiamo non pretendo come non possiamo prendere di tanto questa come ben sapete è una secondaria a tutti i costi hanno fatto un ottimo lavoro 25 euro di riparazione ben spesi però tutto questo aveva la garanzia chissà che come hanno fatto se mi avevano praticamente chissà se mi avevano ottimo hanno fatto un ottimo lavoro la sg funziona benissimo la regla sg funziona 25 euro ben spesi chissà se mi avevano se mi avevano detto di sostituire gli avevo detto se il problema era relativo al gearbox chissà se mi hanno se mi hanno sostituito il gearbox oppure oppure semplicemente semplicemente in realtà non hanno fatto in realtà dai 25 euro ben spesi in realtà che hanno fatto che hanno fatto dopo tutto il tempo me l'hanno sostituita con una nuova me l'hanno sostituita con una nuova ecco tutto la sg funziona benissimo ok per quanto riguarda le modalità di sparo sono due pratica e colpo singolo però c'è la sicura al centro la nostra sg la possiamo impugnare a la sia così a una sola mano come se fosse una pistola oppure così col calciolo come se fosse una mitragliettrice perché quella è una pistola mitragliettrice e perché oggi un del grip perché oggi un del grip perché praticamente così per te lo più stabile e più comodo da puntarlo quando per esempio inseriamo non inseriamo non questo caricatore ma il caricatore quello di il drum così in modo tale che non ci dia fastidio va bene ragazzi e se è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi